ragazzi ciao amici di camper pedalando ci troviamo sulla sulla ciclabile verso ravenna e oggi percorreremo tutte le valli di comacchio e niente divertitevi con noi speriamo ciao camper pedalando percorreremo percorreremo sicura si si va bene percorreremo 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 Musica Ciao ragazzi, ora ci troviamo, abbiamo raggiunto il bivio che da Boscoforte porta verso il Lido di Spina, Comacchio Questo è l'inizio del percorso ciclabile dentro l'acqua verso il Lido di Spina, sono 4 chilometri e mezzo circa di ciclabile Musica 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 Camper pedalando è in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, nelle valli di Comacchio Musica Seguiteci sempre Musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Un saluto a tutti E buone pedalate con Camper pedalando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti